Riteniamo indispensabile per quest'anno evitare la didattica a distanza nelle scuole della campagna. Non usa mezzi termini il governatore Vincenzo De Luca. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi di socializzazione dei nostri studenti. Prosegue. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazioni mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni. Secondo gli ultimi dati, fa sapere il governatore, la campagna vanta il primato nazionale per l'immunizzazione del personale scolastico, docente e non docente, che ha dato una prova straordinaria di responsabilità e senso civico e che merita il nostro ringraziamento. Ad oggi oltre il 95% del personale è immunizzato. Sulle attuali 220.000 adesioni alla vaccinazione di giovani tra i 12 e i 19 anni, il 75% ha fatto la prima dose di vaccino, il 41% anche la seconda dose. Le ASL sono impegnate a completare le seconde dosi entro l'inizio del mese di agosto. Resta il problema di 290.000 giovani di questa fascia che non hanno ancora aderito. Le prossime settimane dovranno essere dedicate prioritariamente a completare le vaccinazioni per l'intera popolazione scolastica. È del tutto evidente che bisognerà fare l'impossibile. ASL, pediatri, famiglie, per raggiungere questo obiettivo. A metà settembre si farà una verifica sulla situazione in tutte le scuole. È evidente che il mancato raggiungimento della soia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime. Studenti vaccinati in presenza e didattica a distanza per chi non è vaccinato. Ci auguriamo sinceramente, conclude De Luca, sia scongiurata questa ipotesi. Faremo di tutto per avere solo didattica in presenza.